Per la procura avrebbe avuto l'intenzione di uccidere due rivali, probabilmente a seguito di una contesa maturata alla compravendita di uno scooter. L'accusa è di tentato omicidio e il 26enne Graziano Palmieri ne risponderà in udienza preliminare il prossimo novembre. È stata fissata sulla base la richiesta di rinvio a giudizio formalizzata da IPM. In base a quanto ricostruito colpì i due con una lama causandogli profonde ferite. A riportare le conseguenze peggiori fu un quarantenne successivamente raggiunto da un provvedimento di arresto nell'inchiesta antimafia IANUS. Inoltre all'imputato viene contestato il danneggiamento di un'auto nella disponibilità della familiare di uno dei feriti. Il 26enne non venne raggiunto da misura i due feriti, dovettero ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Vittorio Emanuele. Sembra che all'inizio avessero fornito una versione non corrispondente a quanto accertato successivamente dagli inquirenti. Il 26enne difeso dal legale Rosario Prudenti nel corso delle indagini avrebbe comunque spiegato di essersi difeso da un'aggressione organizzata pare dai rivali. La procura attraverso il sostituto Fabrizio Furnari ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio a seguito della chiusura delle indagini. Sarà il GUP a bagliare il caso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.